ragazzi questo è un pacco che mi ha regalato la mamma a sorpresa mi ha detto adesso vado giù basta non ce la faccio più perché dovevo scaricare un gioco e poi è ritornata qua è ritornata qua con questo in mano è una sorpresa per te è un pacco che è arrivato per te dai è arrivato che hai fatto tu no aspetta perché c'è già del nero aspetta un attimo cosa c'è scritto voglio girarlo non vedo niente questo qua dentro mi piace hai detto no non ci credo credici 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 centomila persone iscritte al tuo canale non aspettavo eccola è bello leo toys congratulazioni ad aver passato a passare centomila iscritti qui si può offendere bravissimo che dici volevo portare di là guardate ragazzi sono veramente molto molto contento adesso che ce l'ho io lo voglio immediatamente far vedere ai miei amici su skype ragazzi guardate che bello l'anno scorso ci avresti creduto se ti dicevano che ti sarebbe arrivato il bottone d'argento beh sì forse sì forse sì però quando abbiamo iniziato no è vero io non sapevo neanche cos'era quando abbiamo iniziato veramente non sapevo cos'era il bottone di diamante mamma mia quello neanche sapevo cos'era diamante neanche il diamante sapevo cos'era in realtà ok è iniziato l'anno bene visto sì e poi piano piano ho capito che youtube da i premi perché non lo sapevo premi 100.000 iscritti un bottone d'argento con il marchio di youtube un milione di iscritti bottone d'oro con il marchio di youtube e 10 milioni di iscritti bottone di diamante di diamante marchio di youtube ciao ragazzi yeee